... AAAAHHHHH! Tornate qui, stupidi animali! Ehi, Bassotto! Forse posso aiutarti? cosa? di nuovo tu? si perché non provi il cristallo del potere su di me? sarò fermo lo prometto spiro vogliamo aiutarti a sconfiggere ripto e l'ora sta usando le sfere che hai raccolto per accumulare energia hunter ti lancerà le sfere potenziate non appena saranno pronte proprio in questo momento inoltre il professore sta sperimentando nuove forme di energia per darti capacità mai viste prima attento però ora che ripto al cristallo del potere è più potente che mai no No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! 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 No, 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 no cosa da darti io credo di no anche riccone è dispiaciuto di averti fatto pagare così tanto per venire ad avalar vogliamo che tu prenda le gemme come ricompensa per averci aiutato wow grazie prendi le sparks e metto le nuove coordinate e ecco ora puoi andare alle spiagge del drago spiro perché non venite con me una vacanza non vi farebbe male non possiamo spiro ripto non c'è più ora ma ha provocato molti danni ne avremo per settimane ma ricorda che se vuoi puoi sempre venire ad avalar quando tornerai dalle spiagge del drago beh d'accordo andiamo sparks abbiamo un sacco di vacanze da recuperare grazie a tutti 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 grazie a tutti